e benvenuti ragazzi benvenuti a questo unissimo video io sono di nuovo ragazzi oggi nuovo round del torneo ragazzi eros contro sq di pere ragazzi lasciate un bel like se volete che vinca eros e iscrivetevi se volete che vinca cosa sto persona brutta no scherzo scherzo 2 1 che la sfida abbia inizio mai raga forza e sforza io ragazzi in verero se lo so vorrei che c'è stata non dovrete far per nessuno mai ultimo mamma mia che skill hit da parte di ciclone world un craccato signore se tu di fare attenzione ma volete che mi muta ok mamma mia la sfida combattutissima qua non so salire con me che devo curarmi attenzione cazzo no però non vale raga far cadere attenzione qua è una situazione difficile a e la missato pausa pure un attimo tutti di raga concentratissimi dai voglio alzare un po qua la sfida in paio raga ve lo ricordo un'altra volta c'è il pass battaglia ragazzi più impegnatevi al massimo il pass battaglia ragazzi totalmente gratis per voi la sfida il primo round gg eros gra ora la gg tutti e due mamma attenzione signor eros non mi aspetta cosa ci sono 3 2 1 che il secondo raga mi inizio mai guala qui night in spa ma come è tantissimo eros o attenzione attenzione niente stretto stare in difesa non si concedono entrambi niente un attenzione che schifo ha fatto sono un granato incredibile provano si mantiene ancora l'angrao la e si line tra un live rom che cacchi serve non c'è sono state così sempre tutto il gioco capito è non è più no vabbè 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 scherzo attenzione si sono pushati ovviamente attenzione potete avere un lito incredibile poi attenzione però stavolta è rossa subito e danno no attenzione occhio cosa mai che un diego mi sto spammando attenzione è riuscito a box arlo che ci prenderà la e ground la raga da andare un attimo nella visuale di signor diego vediamo come è messo e poi attenzione no attenzione provo a box arlo proprio nel muro salisce dove l'amani sotto a me che cosa farà ragazzi signor eros adesso come farò lo conto provo anche tp al icon da dietro non si stanno ragazzi sparmiando niente entrambi attenzione cazzo piccolino è stata una bellissima spesa bella forte tutta tolto 80 70 non so 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 era fattibile per vabbè per diego soprattutto per eros un pochino di vero se salita e poi abbiamo faccio mettiti in me oh attenzione a cazzo se quali david quelli era molto 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 vantaggio c'è se necessitato molto più vantaggiato perché la sfida sarebbe ancora più aperta cazzo non ho detto ho detto una minchiazza attenzione oh eros ci stai facendo mi stavo addormentando ma come brogian torne c'è intorno a non devi dormire dormi la notte eh magari che ah perché ah non dormi neanche la notte buono sapere attenzione raga non si è fatto il cilino per poco ah non so un attenzione nooo e il signor Diego raga vince il secondo round raga uno a uno dunque raga adoro riprescarne un altro eh bofranci però in effetti hai ragione non c'ho pensato non sono bravo a organizzare i torni ai raga oh attenzione subito da parte di ero sarà come andare per un'ottima sua visuale attenzione stavolta eros che all'irond finalmente eh no attenzione l'ho occupato oh nooo no no eh lo senti college istenuti si mu Vlog ah raga drizz ma secchi no a inno piccoli no auna aquella adoro ah raga duro colpo vero così c'è ma poi a mi hai anche missato e persa fortissima vita per me anche unit cacchio ok mi perdo di tanto nella mente attenzione chissà raga cosa farà adesso ero stavamo un piano in mente c'è poi il rischio raga anche di morire provando attenzione lo pusho lo pusho così attenzione sono entrambi raga bravissimi quello che costo sia momento il round del torneo più no raga è caduto eros rifacciamo no 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 ero continuato non vabbè continuiamo no raga e che tiene fuori faccio un amico meno opportunità per le nostre prendere light round attenzione ragazzi colpo di scena colpo colpo di schiena attenzione raga scontro fratelli da c3 titanic si ha scontrato la titanic brava attenzione occhio eros rischi molto a niente della data attenzione però fai tarsi no caduto mi sa eros è un pochino di gioco a posto un rischio ha riscatto un botto dato quanti in tai scusi non ci fa tanto che con personaggi hai 26 28 di vita sì 38 di vita 50 di scuso no e non dico niente non dico vabbè ci come riscuto vabbè per forza 24 22 no vabbè non dico niente l'avvento niente è acqua è tosta perché se push a rischia di morire però si push potrebbe fargli qualche hit lo sta facendo apposta o sbagliando del sarò l'aerosto tirato una bellissima non si fanno nei video e neanche scusate ma educazione ragazzi meno un round 2 a 1 per diego la ieros confido in te dai ce la puoi ancora fare 3 2 1 e dire giudalità pausa un ruido da un pop a attenzione salta era strana proprio qui la rai ground dai a rose concentrati concentrati si può anche real care andan dalle gamote tastiera a me va bene così box a tu l'avevo quasi bucciati occhio comiti sopra bravissimo a ero se poi molti prende questi ragazzi vi ricordo che entrambi sono da pad no 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 ah stai giocando da morsett a stiro ora si è un'imbocazione di dio 3 a 1 per diego è ora di me ricominciare il round va bene perché è buono lo so sotto tutta la sua dai ero sconfidente ogni stente la cassa e grigli e gra 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 sardina ina ina coccodrilli chi fuori resterà dio can no cose brutte mai un delta spectator se volete mettere il giorno per me è uguale proprio domenica aspetta da metto giorno in cui grazie e che il quarto round abinizio 31 via non trova bene col tempo se un ragazzo mette 3 a 1 per essi qui di per un attenzione ci sono facciati è uno scazzo spisa poter tirare il mito della madonna attenzione aspetta magari chiediti per tirare le bellezza e buxato ragazze e puoi fare nient'altro 32 grada eros gg però anche questa parte taglia però non dovresti fare solo me lo so lo so lo so noi ho in corte mi dà consiglio c'è un po mi dispiace e che il quarto round abinizio 3 2 1 via attenzione attenzione hit da test hit a parte del secco di per e hanno fatto entrambi raga del bellito ora 170 questo qua non lo so 150 credo 148 270 era la siete praticamente avete più o meno la stessa vita più o meno il cavolo è il 6 e gli a sinistra non lo so aspetta che te sono segnati unit non è stato dove amico non che cosa farò ma lui sa dove sono credo di sia vabbè non lo dico ovviamente attenzione air sprometti bravo gg diego di video sti racchiare sono morto ragazzi non potremmo svegliato e raga stiamo 4 2 raga match point per sq di pere eros quindi raga dovrà vincere tre round se vuole vincere e per lui il match point raga che l'ultimo round ab forse l'ultimo round ab inizio attenzione subito da parte di eros notato non posso evitarti attenzione questo mare attenzione gg eros 4 3 raga o non è ancora detta raga l'ultima parola non è detta l'ultima parola 3 2 3 2 1 ok 3 2 1 via no no di scatenato ma che non può fate riuscire di magari allora saremo tutti figli attenzione secoli per un po' di fame spammare dall'alto tutto è così e poi usa il pompa piuttosto ma nienti metri faccio 5 alla volta eh beh in quella massima va bene cinque ha fatto bene no no aspetta con quale logica è detto 5 ha fatto esattamente 5 occhio ero sono non vabbè uuuh attenzione è rosson fire qua sarebbe bello se arriva steppari è tipo chi vince l'ultimo però gara si perchè se arriviamo a a se arriviamo raga 4 pari è il round secco chi vince vince tutto attenzione rosson mi sa raga sta per vincere il signor diego qua attenzione raga combattutissimo attenzione si vuole scildare uh è caduto attenzione se si fa i scildini ero c'era nooo gg e ragazzi il vincitore di questo scontro è il signor eh no scherzo il signor sq di pere raga gg bravo ero bravissimo è stato bravissimo ero strada raga lasciate un bel like iscritti al canale se per il prossimo turno che dovrebbe essere eh buono lo sarà però credo che uscirà eh ah intanto oggi uscirà questo video e anche l'incontro tra audio e falderano lasciate un bel like iscritti e noi ci vediamo al prossimo video ciao